Nella regione dorsale alta, in adduzione di scapole, tra scapola e trapezio può apparire questa particolare fossetta. Di cosa si tratta? Prima di tutto palpiamo i processi spinosi delle vertebre dorsali di 1, di 3, di 7, di 12. Dopo segniamo con un tratto marcato i margini palpabili della scapola, mentre con i puntini le porzioni che scompaiono sotto i muscoli, margine vertebrale, margine ascellare, spina e le relazioni tra l'angolo mediale d3, l'angolo inferiore e d7. Dopo disegniamo le fibre ascendenti del trapezio dai processi spinosi di d12 fino a risalire e questo trapezio arriva all'angolo mediale di scapola al bordo inferiore della spina scapolare. Aggiungiamo i due romboidi, piccolo romboide C7T1 e grande romboide C2T5, processi spinosi fino al margine vertebrale della scapola. Realizzando un'adduzione in questa posizione si attivano principalmente i romboidi. Aggiungiamo adesso il gran dorsale, vedete la fascia torra colombare e le fibre che risalgono in senso medio laterale, quelle che nascono dalla spinosa della settima dorsale sono orizzontali. Abbiamo anche aggiunto l'inserzione del gran dorsale sulle ultime quattro coste e il grande rotondo. Adduzione, estensione e intrarotazione. Ed ecco scoperto il segreto di quel triangolo tra trapezio, grande romboide e grande dorsale, è il triangolo di auscultazione.